Buonasera, benvenuti alla quinta giornata del Natanzato per la Nostaria, l'unica attenzionata della Prop giaçatina conversata. La papazone delpo, la Romagna Maroscenen di V waggiane di Massimiliano. Nooo! A che inizia l'amore, magari non so l'è bisogno di piùomsciati. Noi bisogno di più gelir, ma è la questione di più. Ma è stata l'amore, non so l'amore. E con la domanda, è un ucciolo sawa. Alla domanda, è passato. Alla domanda, è passato. Grazie! 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 Bravo, bravo! Bravo! Genico! Grazie a tutti. 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 Arbitro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.